Ciao da Avsim! Con la vittoria contro il Brescia e con la vittoria della Lazio sull'Inter, la Juventus torna da sola in testa alla classifica di Serie A, con un punto sulla Lazio, ma non siamo più a pari punti con l'Inter, quindi abbiamo un pochino di respiro in più. Un po' di respiro che però non dobbiamo assolutamente sprecare perché lo abbiamo già fatto. Se avessimo vinto a Verona e contro il Napoli, probabilmente, anzi sicuramente, saremmo stati a più a questo punto più 7 sulla Lazio e più 9 sull'Inter, se vogliamo tenere l'Inter come riferimento, ma a questo punto dobbiamo tenere come riferimento entrambe le squadre perché la lotta a Scudetto è una lotta 3, come ha sottolineato Sarri ancora una volta, anche ieri, nella conferenza stampa post Juventus-Brescia. Una conferenza che racconta la partita, racconta il punto di vista di Sarri, ma ci dice anche qualcosa di più. Ci dice qual è il momento della Juventus e qual è il momento di Sarri in questa Juve. Sarri, in effetti, ha detto anche delle cose abbastanza rassicuranti post partita e soprattutto nel momento in cui ha sottolineato come probabilmente la Juve sta avendo un periodo di flessione a livello di rendimento anche fisico, forse dovuto ai carichi di lavoro, forse dovuto al fatto che giocano più o meno sempre gli stessi. Ieri col Brescia si è potuto fare un po' di turnover, ma appena si è provato a far tornare in campo, chi di solito è titolare, vedi Pjanic, si è anche infortunato e siamo anche in apprezzione per sapere che cosa realmente ha. Voi anche per altre ragioni questo calo di rendimento, ma un calo di rendimento che è evidente, dice Sarri, non è che abbiamo smesso di fare risultati per tre mesi. Abbiamo fatto due brutte partite. Può capitare, 15 giorni fa eravamo in fase ascendente, adesso siamo in fase calante e speriamo che dopo questa vittoria col Brescia ritorni la fase ascendente torniamo quindi a risalire, a crescere e a fare ottime cose. Bene, questo è molto rassicurante perché vista in quest'ottica effettivamente può darsi che stiamo parlando di una Juventus che sta soltanto attraversando una fase di turbolenza. Una fase di turbolenza nella quale, a parte le prestazioni brutte, dobbiamo comunque metterci pure questa partita col Brescia, tutto sommato, perché la soddisfazione, come dicevo ieri, non può essere piena per questa vittoria. Nonostante sarebbe potuta finire 6-0, 4-0 per le occasioni create, due pali, tante occasioni anche sprecate da Higuain che però ha detto Sarri nel secondo tempo è stato pure molto sfortunato. Però il 6-0, il 4-0 non ci sono stati e soprattutto dobbiamo assolutamente ricordare che per tutto il secondo tempo e anche qualcosa in più, la Juve è stata in superiorità numerica. Questa superiorità numerica, se andiamo a vedere i dati, non si è vista perché i dati che raccontano questa partita, i numeri di questa partita, sono in linea con quelli che avrebbero dovuto essere anche in 11 contro 11, vista la differenza tra le due squadre. E allora la difficoltà della Juventus in questo momento qual è? È la difficoltà di andare alla produzione offensiva, come avevamo visto in realtà già contro il Milan in Coppa Italia. E Sarri lo aveva detto, abbiamo lasciato Ronaldo da solo lì davanti. La fase d'attacco è stata un po' solitaria, è stata anche un po' estemporanea perché non riuscivamo a salire, non riuscivamo ad accorciare. Ieri ovviamente il baricentro è stato molto più alto, il predominio territoriale è stato netto, abbiamo fatto il 68% di possesso palla con il 90% di precisione nei passaggi, dati who scored. Però appunto, nonostante le tante occasioni, i gol sono stati soltanto due. E anche dal punto di vista del timing, della tempistica, non è che la Juventus avesse creato tutte queste occasioni nel primo tempo, in parità numerica, eppure nel secondo tempo per andare a fare il 2-0 ce n'è voluto. Ce n'è voluto di tempo, abbiamo dovuto scavalcare l'ora di gioco. Quindi le problematiche sono queste, se vogliamo vederla nella sua interezza, tenendo conto di tutte le componenti. Poi ovviamente ci sono prestazioni positive di alcuni singoli, lo stiamo dicendo in particolare Bentancur, che per quello che ha sottolineato anche Sarri in conferenza stampa, diciamo è stato l'elemento, cioè che è stato Bentancur, lo vediamo dai dati, ma Sarri ha più che altro ha sottolineato la fase, di che cosa? Di recupero palla, molto alti. Abbiamo intercettato tanti palloni nella metà campo avversaria, non li abbiamo mai fatti uscire. E vi dico che in questa opera, in questa attività, i migliori sono stati Bentancur e Rabiot, altro giocatore che ha fatto sicuramente una buona, forse non buonissima partita, c'è Ramsey che non ha convinto tutti, che non ha convinto tutti, ma che tendenzialmente ha fatto una buona partita, non ancora di consacrazione, ma d'altra parte lo stesso Sarri l'ha detto, aspettiamo anche delle conferme, diciamo più, delle partite insomma più difficili, per poter avere delle conferme su questo momento, cioè la partita contro il Brescia non può essere presa a modello di paragone per quello che è l'andamento della Juventus. Però poi ci sono anche altri aspetti, altri aspetti che dobbiamo tenere in considerazione tra le parole appunto di Sarri. E ce n'è una in particolare, perché se queste sono le cose rassicuranti, e ce ne sono state appunto, di frasi, di passaggi concettuali rassicuranti sul fatto che possiamo tornare o cominciare ad andare finalmente bene, c'è anche qualche passaggio abbastanza deludente e discutibile. E soprattutto quando Sarri ha detto questa squadra ha altre caratteristiche, ha caratteristiche sue proprie, completamente diverse rispetto alle mie squadre del passato, quindi quell'organizzazione di gioco che si vedeva nelle mie squadre passate qui non si vedrà mai, e io sto cercando di adattarmi a queste caratteristiche. Allora io non voglio essere quello che fa l'uccello del malaugurio o che vede sempre tutto nero, nonostante siamo bianco-neri, quindi abbiamo anche questa bella dose di bianco che ci deve accompagnare, o quantomeno lo dobbiamo mettere in parallelo. Però ditemi voi se questa non è una missione di resa, se non è una resa. Questa è parsa a tanti una resa. Questa frase, questo passaggio, questo concetto espresso da Sarri. Perché che cosa significa? Significa che non ha senso, veramente non ha senso quello che stiamo facendo. Noi Sarri l'abbiamo preso per uscire anche un po' dalle nostre caratteristiche. E lui quando era arrivato quest'estate aveva detto io voglio chiaramente portare questa squadra a difendere in maniera diversa, ad attaccare in maniera diversa e a costruire in maniera diversa. Il più possibile vicino alle mie idee, che voglio inserire in questo ambiente, che voglio dare a questa squadra e a questi giocatori. Ma voglio preservare della squadra di prima, e in particolare della Juve di Allegri, quella capacità di stare sempre in partita e di avere quel guizzo in più anche negli ultimi minuti, anche per pochi minuti a partita, tale da riuscire a vincerla. Cioè quella reazione psicologica, quel fatto di essere indomiti, quel fatto di non crollare mai, di lottare sempre fino alla fine, che è nel DNA di questa Juventus. Che diciamo in qualche maniera discende direttamente dal saper soffrire, come aveva sottolineato in questi giorni anche Buffon, con un post che non è piaciuto a molti, perché il DNA della Juve non deve restare quello di soffrire. Dovrebbe iniziare anche ad essere quello di una squadra che aggredisce, di una squadra che attacca. E soprattutto per fare quel passo in avanti in Europa. Ma finché si tratta di questo, di quello che aveva detto Sarri quest'estate, ok, ma se adesso iniziamo a dire che Sarri addirittura si sta adeguando, sta provando ad adattarsi alle caratteristiche di questi giocatori e di questa squadra, e che non vedremo mai niente, praticamente niente, di quelle che erano le squadre di Sarri di prima, a me va anche bene, attenzione, perché non stiamo qui veramente a reclamare il palleggio, il possesso sfrenato, in qualche maniera anche il gioco ricorsivo, autoreferenziale, cioè il palleggio per il palleggio, il possesso per il possesso. Stiamo semplicemente cercando una Juventus che sia in grado di migliorare la sua qualità di gioco per avere qualcosa di meglio spendibile a livello europeo, per essere una squadra con un gioco identitario a livello europeo. Ma il problema è un altro, che se tu Sarri l'hai preso comunque per avere questo, ecco, questo qualcosa in più a livello di gioco, e lui arriva a febbraio a dire che si sta adattando lui alle caratteristiche della Juve, scusate, ma allora ha ragione chi dice che ci tenevamo allegri? E io Allegri anche adesso vi dico, e anche dovesse essere mandato via Sarri adesso, a giugno, quello che sarà, io ripeterò sempre che Allegri bisognava mandarlo via, perché le condizioni che hanno portato alle sonne di Allegri erano giuste, cioè era fondato l'esonero di Allegri, era giusta la decisione, perché dopo cinque anni si stava andando per inerzia e serviva comunque un cambiamento. Ma si è scelto il cambiamento sbagliato, perché se allora ogni volta che, o meglio, questa forse è la prima volta, ma se quando proviamo in generale a prendere un allenatore contenutistico, che può darci lui qualcosa in più, oltre che venire soltanto a gestire, si deve adattare lui e deve diventare un allenatore gestore, ma a questo punto prendiamo allenatori gestori, quindi prendiamo l'Allegri della situazione, che può essere Simone Inzaghi, per esempio, che tanto viene elogiato adesso per quello che sta facendo con la Lazio. Ora non dico che io vorrei Simone Inzaghi sulla panchina dallo eventus, dico che purtroppo ci dobbiamo forse arrendere a questo stato di cose, così come si sta arrendendo Sarri. E poi mi dice, per esempio, in altre squadre in passato non avrei mai dato a Dybala la libertà di spaziare e di giocare senza grossi canoni, senza dei veri e propri binari in fase d'attacco, come è successo oggi, ieri, contro il Brescia. E allora che cosa significa? Che veramente siamo tornati all'anarchia offensiva che c'era anche con Allegri. Quindi questa è una squadra che, per come ha detto Sarri, ha delle individualità fortissime, ha dei giocatori che sono individualisti molto forti, tale per cui non si può fare quel tipo di gioco organizzato e bisogna lasciarli alle loro libertà. E allora vedete che è stato preso l'allenatore sbagliato per la rosa sbagliata o che è stata costruita male la rosa per l'allenatore giusto? E cioè, io credo che non ci sia molto altro da dire. Cioè, la situazione a questo punto è questa qui. La Juve di Sarri è morta, cioè la Juve di Sarri è finita. Ragazzi, mettiamocelo in testa. In che senso? Nel senso che possiamo vincere tutto, possiamo vincere tutto, ma lo vinceremo con un ibrido. Lo vinceremo con un ibrido con una via di mezzo che non è futuribile. Una via di mezzo che non è futuribile perché nel momento in cui Sarri dice che si sta adattando alle caratteristiche, io non capisco perché debba restare l'anno prossimo. Dico sinceramente. Perché significa che l'esperimento è fallito e non può riprendere. Perché l'anno prossimo l'unica cosa che potremmo avere a parte migliorare un po' la Rosa e renderla leggermente almeno leggermente più congeniale alle richieste e alle necessità dell'allenatore non possiamo comunque andare a provare nuovamente da capo a vedere se Sarri riesce ad inserire i suoi contenuti in questa Juve perché ormai si è arreso adesso cioè cos'altro c'è da fare e andando avanti la situazione è un po' che restare credo la stessa onestamente credo la stessa quindi purtroppo va detto che l'esperimento si è chiuso si sta chiudendo con questo ibrido e non so quanto si possa andare avanti pensando di fare meglio poi ripeto a livello di prestazioni possiamo ottenere grandi cose però sempre in maniera in maniera ibrida e non come l'avevamo programmato all'inizio della stagione vi faccio un po' di confusione in realtà però volevo comunque citarvi dei numeri perché la Juve ieri ha fatto 27 tiri di cui 9 importa 2 pali anche abbiamo preso 796 passaggi su 956 tocchi quindi con l'83% di rapporto passaggi-tocchi che è un buon numero 7 passaggi consecutivi in media e si poteva forse fare anche meglio il migliore per quelli che hanno toccato più palori sono stati Bentancur 136 Di Bala 124 e Quadrato 106 e che sono anche gli stessi che hanno fatto più passaggi Bentancur 113 Di Bala 87 e Quadrato 84 per i tiri Di Bala ne ha fatti 8 di cui 3 importa I Guain 6 di cui 2 importa i migliori degli intercetti che ne hanno fatti 3 a testa sono stati Bentancur e Ramsey dati XG di Understat la Juve 2,79 quindi ha ampiamente meritato di fare il 3 e il 4 a 0 Brescia 0,28 abbiamo fatto ben 13 passaggi negli ultimi 20 metri quindi nell'area vicino all'area del Brescia esclusi i cross loro 0 quindi abbiamo concesso nulla e anche per quanto riguarda il rapporto diciamo l'indice del pressing PPDA 5,45 credo che sia record stagionale nella singola partita per la Juve contro 19,69 quindi praticamente non c'è stata partita ma d'altra parte erano in 10 il giocatore più pericoloso per quanto riguarda l'XG Chain e cioè la partecipazione alla pericolosità delle azioni a cui ha preso parte è stato Di Bala con 1,40 subito dietro Iguain circa 1,3 insomma dati importanti dati anche questi rassicuranti Fonte Qscord e Understat però parliamo comunque di una partita in cui la Juve in superiore della numerica ha vinto solo 2-0 quindi c'è da lavorare quindi c'è da migliorare non c'è tanto da esaltarsi nel momento in cui si gode per l'Inter che perde io onestamente no cioè vorrei tirarmi fuori da questo esercizio e da questo gioco non mi interessa veramente non mi interessa vorrei pensare alla Juve guardare alla Juve e prendere purtroppo atto del fatto che Sarri si è arreso e che c'è è in corso un rigetto anzi è proprio già praticamente completato il rigetto dell'ambiente Juve rispetto alle idee di Sarri e lui ha tirato i remi in barca e adesso andiamo per inerzia ci facciamo un po' sospingere dalle onde quello che capita praticamente la situazione è questa qui io credo ditemi quello che pensate nei commenti mettete like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche naturalmente vi ringrazio per la vostra attenzione ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie